Ferrari Giambattista, consigliere regionale della Commissione Ambiente, trasparenza e legalità. Trasparenza e legalità perché? Perché la trasparenza e la legalità sono essenziali a un governo sicuro e a un governo che sia percepito come di tutti, sono i cittadini che devono governare con trasparenza e legalità e la regione deve fare altrettanto, deve rendere tutti i suoi atti trasparenti e legali.